Buongiorno e bentornati a Spazio Libero. Oggi ci occupiamo di bioenergetica, un termine nuovo per indicare una disciplina vecchia, la biopranoterapia, che con il tempo si è andata affinando. Ne parliamo con l'Associazione dei Bioterapeuti Europei, con noi la Vice Presidente Mario Louvier, buongiorno e benvenuto, ed anche il fisico Bruno Morpurgo, che ha dato il suo contributo all'Associazione attraverso una tesi di laurea. Dopo ne parleremo. Benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto Louvier, che cos'è l'Aifep? L'Aifep è un'associazione di categoria che rappresenta professionisti e non a scopo di lucro. I principali scopi che ha sono quelli sicuramente di selezionare le persone, noi nell'80 eravamo in 1800, attualmente siamo in 100, di formarli con un percorso rigido di tre anni, di valutare direttamente il loro operato per tutelare gli utenti, di affinare sempre un miglioramento nei codici deontologici e di assicurare che questi professionisti abbiano una assicurazione verso la responsabilità di terzi. Mi pregio dirle anche che noi siamo stati monitorati per 5, per 10 anni circa dal Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro che ha riconosciuto le nostre caratteristiche e requisiti. Voi siete l'associazione dei bioterapeuti europei, cosa sono i bioterapeuti? I bioterapeuti è la vecchia etimologia nel nome che era il vecchio pranoterapeuta e qui bisogna dividere il vecchio col nuovo perché troppo spesso si confonde il mistico e il magico con l'evoluzione dei tempi. Invece il bioenergeuta è una persona che è stata formata, professionalizzata, standardizzata ed è preparata ad accettare una nuova formazione professionale in un nuovo evento che poi le parlerò in quelle che saranno le nuove direttive europee. Che cosa prevede quindi la bioenergetica? La bioenergetica sicuramente ha un grande rispetto verso la medicina ufficiale, non usa terminologia medica e assolutamente si pone in una forma autonoma al servizio di quello che può essere il principio della salute e del benessere come non terapia che è sbagliato perché vuol dire prendersi cura in una forma di implementare la vitalità della persona senza farmaci. In che modo? Direttamente apponendo le mani sopra il corpo delle persone e dove c'è un'interazione diretta come è stata rilevata da sperimentazioni che abbiamo fatto su animali, minerali e vegetali passando direttamente queste informazioni che direttamente implementano e migliorano la condizione a favore di quello che noi abbiamo trattato. Quindi cosa vuol dire? Che non vai ad incidere appunto sulla medicina tradizionale? Assolutamente no. Verifiche che sono state fatte anche per due anni da me in un ospedale pubblico Guido Salvini di Milano in chirurgia vascolare è stata dimostrata questa interazione diretta direttamente con l'utilizzo di farmaci e senza i farmaci. Chi si rivolge a voi? Tutte le persone che ne hanno bisogno e soprattutto le persone forse più sfiduciate da quello che possono essere tutte quelle discipline, le chiamo discipline perché si chiamano discipline bionaturali, che hanno provato e che il mercato offre. Con noi dicevamo anche il fisico Bruno Morpurgo, lei ha svolto una tesi di laurea, lei è laureato in fisica che ha dato un contributo importante all'associazione, ce ne può parlare? Sì, questa tesi di laurea è stata la prima su questo argomento all'università di Milano, è stata anche pubblicata sul nuovo cimento quindi è assolutamente una tesi molto importante e questo ha permesso anche la conoscenza dell'IFEP perché tramite il secondo professore di tesi, il professor Codazza, il primo era il professor Facchini di Milano, sono arrivato a conoscere gli amici dell'IFEP. Che cos'è questa tesi? La tesi di cosa parlava? La tesi parlava dei biofotoni, i biofotoni in due parole sono dei fotoni, cioè luce, particelle di luce, interessanti perché prodotti dagli organismi viventi, piante, uomini, animali, quindi biofotoni. Ma la cosa più interessante è che da diversi esperimenti si è visto che sono costituiti da luce laser. Ora la luce laser, come sappiamo, ascoltando con un normale apparecchio, un cd o un dvd, permette di portare la comunicazione, concetto molto importante nelle discipline energetiche perché sembra che il concetto di salute o di malattia è proprio legato a una mancanza di informazione e all'interno del corpo di comunicazione. Questi biofotoni quindi permettono il passaggio di molta informazione fra le varie cellule, fra gli organi, ma come vedremo anche fra una persona e un'altra persona. Prima ancora di arrivare e di tornare, quindi, ai vantaggi di questa scoperta, se così vogliamo dire, per quanto riguarda i bioterapeuti, quali sono le altre applicazioni di questa scoperta negli altri campi? Ce ne sono tantissime perché i biofotoni sono proprio un legame fisico, quindi verificabile, con la salute della persona. Si è visto, ad esempio, che le persone che godono di buona salute, la tecnologia in corso, o addirittura, e questo diventa più interessante come prevenzione, anche persone che non hanno sintomi ma che in realtà stanno a livello energetico già... Perdendo energia, si dice. Esatto, perdendo energia e quindi magari fra sei mesi, fra un anno, possono avere anche dei sintomi fisici. Ecco, le persone che appunto hanno questi deboli equilibri nel loro corpo di energia hanno un'emissione, dal loro sangue ma anche dagli altri organi, inferiore del normale. Quindi si può anche prevenire e ovviamente anche curare durante una patologia. Tradotto appunto per voi questa scoperta, insomma questa verifica, che cosa ha comportato? Beh, innanzitutto la scelta di non farci relegare in quello che era il concetto magico e mistico, perché queste realtà sono supportate sempre da ricerche scientifiche. In fondo noi come esseri viventi ci esprimiamo e comunichiamo in una realtà che non conoscevamo allora i biofotoni, ma è come il nostro filo, senso di vita, ci fa organizzare e stare bene insieme o male insieme. Di conseguenza è un valore aggiunto alla dimostrazione che tutte queste discipline bionaturali che esistevano in Oriente, che sono approdate in Occidente e che sono al servizio ormai possono offrire agli utenti qualcosa in più per migliorare la loro qualità di vita. Come si diventa bioenergeti? Guardi, questa è una bella domanda, gli spiego. Se io devo diventare medico, non nasco medico, però faccio una formazione professionale che mi porta alla laurea e poi posso praticare perché ho una certificazione di competenza. Così come si diventa bioenergeti lo facciamo anche noi a Life di Milano da moltissimi anni. E ce lo può sintetizzare questo percorso brevemente? Sì, siccome l'acculturamento di queste persone che prima avevano solamente l'esperienza, abbiamo autoadattato dei percorsi formativi che sono rivoluzionari sullo studiare i concetti, basi di materie che interessano soprattutto nella fisica quantistica, in diverse altre discipline e applicarle direttamente nelle conoscenze di persone che possono comunque al di fuori di una professione non regolamentata comunicare con un medico, con un paramedico e capire direttamente cosa sono le patologie. Quanto dura il corso? Il corso dura tre anni e viene svolto poi successivamente e obbligatoriamente da noi una formazione continua e permanente. Dopo il diploma, dopo la laurea, quando? Dopo l'attestato di competenza, sempre, viene fatto tutti i mesi, vengono svolti particolarmente, regolarmente, noi diamo circa 80 ore all'anno di formazione permanente. Ma volevo dire, uno per arrivare a diventare appunto bienergeuti e a... Ci impiega tre anni, se nelle prove di verifica gli acconsentiranno di passare tutti questi esami, dopodiché avrà un attestato di competenza, si metterà vicino e si specializzerà vicino per l'apprendistato a un professionista abilitato da molti anni e dopodiché continuerà a fare la sua formazione permanente e continuamente. Un'ultima domanda, dal punto di vista legislativo l'IFEP punta a riconoscimento della professione? Sì, puntiamo molto a riconoscimento della professione, però molti progetti di legge sono andati, diciamo così, non a buon fine, perché le legislature non le hanno portate a termine. Esistono due progetti di... esistono due leggi, scusi, regionali, che attestano direttamente l'esistenza di queste discipline e soprattutto non hanno conflitti con le leggi dello Stato. E ce n'è una attualmente che io spero in questi giorni sia risolta, la 3270, che è al Senato e spero che direttamente con piccole modifiche, diciamo così, in Parlamento, possa essere raggiunta, ma questa riconoscerà le associazioni. Ok, lo spazio a disposizione termina qui. Ringraziamo i nostri ospiti Mario Louvier, vicepresidente dell'Associazione dei Bioterapeuti Europei e il fisico Bruno Morpurgo. Se volete rivedere questa o altre puntate potete collegarvi al nostro sito raiparlamento.rai.it. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Cari vigioli, capito la carezza di noi. Grazie. Grazie.